scat man's world come il donna veneziano da shims alur alur si deve lavorare oggi a dare mezzogiorno che devo pagare le bollettes bollette comendiane bollette comendiane paga le bollette ok li pulisci come cammina in maniera gasatissima il lavoro comendiano il lavoro ok ho pagato le bollette perfetto adesso qua siamo messi bene la possiamo vediamo se c'è relazioni maurizietto invita noto attuale mauri invita maurizietto maurizio ad affare brutto pirlotta ora chiacchieramo chiacchiera con alice ok vediamo se dovrebbe andare su teoricamente con leggi di eric lewis hamilton che probabilmente ci sono energia fai un pesolino stiamo attenti 11 ci ricordo ora arriva la macchina di merda ok ok soddisfatto il kume it's incredible kume allora guadagna 500 e compro un televisore adesso me lo prea poco me lo compro perché i soldini ci sono ok bravo kume vai a lavorare adesso ragazzi l'obiettivo di questo video è ciaccolare con il signor alberghini perché va più veloce adesso la voce sbaglio va più veloce adesso il kume il kume domina dai kume a disagius a disagius successo introverso ok oddio sono finito sono finito a questo punto andiamo a letto subito fiori non posso ridurmi così al lavoro com'è andata bene cazzo ammazza oh umore ideale concentrato ok però in realtà anche non mi serve neanche comprare mi ritengo i punti guadagnati per per cose più importanti sinceramente va bene ok ok molto a disagione per forza viscica viscica non pesciarti addosso cazzo bravo kume e fame cucina e eeeh vai frittata alle 6 di mattina ci sta fietra godi e pulisci dai fai la pappa kume bravo il kume ragazzi il kume damina bravo 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 guarda la partita in streaming teso perchè fai la ricerca del computer niente non sta divertendo il porco ok no non è questo il modo calma tensione alle stelle per il kume caputana gioco una partita eeeh vai vai kume ti prego divertiti sono le 10 di mattina dobbiamo anche cazzo qua pulisci asciuga vai kume divertiti kume divertiti kume divertiti abbracciare qualcuno il porco deve abbracciare ok fai una doccia riflessiva ok andiamo perfetto il kume si trova il lavoro quindi due giornate proprio di lavoro intenso adesso spero di stare un po' più riposato perchè con tutta sicilità ok con tutta sicilità ho bisogno eeeh di parlare con Maurizio Berghini cioè ragazzi se non parlo con il Mauri non ne parlo niente cioè bisogna parlare con il Mauri punto cioè ragazzi dove c'è Mauri c'è casa lo sappiamo dai dai ok sono ancora soddisfatto quindi sono ancora abbastanza riposato promosso tecnico arrivano big money grande ok non è di a casa perfetto ammazza quanti soldini e adesso relazioni invita nell'otto attuale bisogna dobbiamo lavorarci il Mauri arriverà molto presto al Berghini e incontro un nuovo sim perchè la socialità vabbè socialità non è neanche male eccolo qua eccolo qua invita ad entrare adesso faccio fichi fichi con l'Alberghini provare in complimento sincero ok complimenti per l'abito lavoriamoci un po' al Berghini chiede della sua giornata discuti della giornata ma guarda ragazzi guardate il cubendone con il cappellino così cioè un figo devo anche criticare qualcosa esprimi ammirazione qua al lavoro raggiungi il livello 3 logica e stringi quattro amicizie ok quindi al Berghini è uno di questi lavoriamoci al Berghini vai al Bergo dobbiamo che stare con Daniella cazzo Daniella è un po' incazzata farà conoscere estroverso ok fai l'imitazione fai l'imitazione ora il Mauri amicizia e godo e godo quindi no fai scatto la foto insieme al Mauri ci sta grande Mauri ok ciao Mauri fai la doccia fai la doccia no fai la doccia no fai la doccia calle sensuale buono ok amicizia ne abbiamo tre come il dono è un po' stranco buono ci stiamo lavorando al Berghini e fin qua che siamo ottima cosa tanto salviamo un attimo per sicurezza vediamo domani se lavoro penso di sì ok buono ragazzi siamo lavorati un po' al Berghini adesso questi giorni di lavoro mi dedico al lavoro senza registrare poi ci ribecchiamo sabato perché voglio fare la prima festa cumendiana ok invitiamo tutti facciamo un po' di bordello però con con Dina mi piacerebbe sposarmi però è anche vero che c'è Daniele al Berghini che mi piacerebbe rubare al buon Maurizio adesso vediamo raga è tutto da vedere raga un saluto da cumendone veneziano ciao comenda veneziano lo youtuber si italiano